Nome Andrea, cognome cittadino, professione, centrocampista offensivo del Biceglie, caratteristica principale è l'uomo dei derby. Ci ha preso gusto insomma il centrocampista romano, incide anche sul match casalingo contro il Monopoli. Giocato sul neutro del Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, è valido come recupero della non aggiornata di Serie C. Suo il centro dagli 11 metri in pieno recupero che vale il definitivo 1-1. Poco più di un mese fa aveva deciso pure il derby contro il Foggia Lozaccherina con una doppietta sul rigore. Secondo pareggio consecutivo dunque per i Nerazzurro Stellati, il terzo stagionale raggiunto proprio nel finale. Era già accaduto domenica scorsa a Pagani e in precedenza nella trasferta di Viterbo. Un punto e tanti giustificati rimpianti invece per il Monopoli che colleziona comunque il terzo risultato utile di fila. La cronaca che si apre con il tentativo acrobatico di Altobello mira abbondantemente imprecisa. Buon avvio dei padroni di casa, iniziativa intraprendente sulla corsia destra di Vitale. Menegatti blocca dopo una beffarda deviazione che rischia di metterlo in difficoltà. La replica del Monopoli. Giorno calcia dal limite e il tocco di Priola cambia la traiettoria. Russo si allunga e riesce a deviare in angolo. Pericolosissimi gli ospiti poco dopo. Marilungo lavora il cross dalla destra per Samele che non sa incidere comunque da posizione non semplice. Finale di tempo. Traversone di Gebre, testa di Piccini, palla a lato. 0-0 all'intervallo. Per i gol dunque bisogna attendere la ripresa che si apre con il tentativo dalla distanza dello stesso Piccini che frutta solo un corner. Occhio al cambio. A nono minuto risulterà decisivo sul punteggio finale. Buccaro inserisce Cittadino al posto di Ciliano. In gol però ci vanno poco dopo i biancoverdi. L'azione nasce dal cross di Gebre e si conclude con il tocco vincente sul secondo palo di Zambataro. Vantaggio Monopoli. Provano subito a scuotersi i bicegliesi. Punizione Mancina di Giron. Menegatti è attento. Mansur può colpire da buonissima posizione ma fallisce il bersaglio insidioso. Il successivo tiro cross di Giron. L'estremo ospite risponde ancora presente. Insiste il biceglie che va a segno sugli sviluppi di un calcio piazzato con Maimone ma l'arbitro su indicazione dell'assistente. Annulla per fuori gioco. Ultimi dieci minuti. Padulano non pesca. Il jolly con il mancino. L'episodio che cambia volto alla partita. Arriva in pieno recupero. Sartore viene atterrato così in aria. E calcio di vigore dal dischetto. Si presenta proprio l'uomo dei derby. Andrea Cittadino che non perdona dagli undici metri. E fissa il punteggio sul definitivo uno a uno. Diventano nuove i punti dei bicegliesi. Sale a quota 13. Invece il Monopoli che però ha giocato anche due gare in più dei nerazzurro stellati. Domenica si torna subito in campo per gli incontri della tredicesima giornata. Biceglie ospita il Potenza sul neutro dello Zaccheria di Foggia. Il Monopoli sarà di scena invece al Barbera contro il Palermo.